Come va il nuovo Land Rover Defender? C'è solo un modo per scoprirlo, provarlo davvero. E alla fine, come al solito, vi daremo i pro e i contro utilizzando strumenti, prove, una pista e un vero ingegnere. Perché noi qui oggi, al nuovo Defender, daremo anche i voti con il temibile pagellone di automoto.it Beh, lo sanno tutti che cos'è il Defender, l'erede diretto di uno dei fuoristrada più leggendari della storia. Ma cerchiamo di andare oltre le apparenze e di scavare un po' più in profondità per scoprire cosa si nasconda davvero dietro al suo design, che tra l'altro mi piace assai. Beh, non più un telaio a longheroni. Il nuovo Defender sfrutta una scocca autoportante in alluminio, come tutti gli ultimi modelli Jaguar Land Rover di alta gamma. E, come tutti i SUV, non ha più il telaio separato dei fuoristrada nudi e crudi, come Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser e Mercedes classe G. Le sospensioni ora sono indipendenti e raffinatissime. Davanti quadrilateri, dietro multilink, semplicemente il top. Poi ci sono molle ad aria e sospensioni a controllo elettronico, che su questa versione a passo lungo 110 sono di serie. Tradotto, ora viaggiare su asfalto, anche per tante centinaia di chilometri, non è solo possibile, ma anche super confortevole. Gli inglesi hanno fatto un ragionamento che non fa una piega. La maggior parte dei clienti guiderà quasi sempre su strada, quindi miglioriamo la dinamica di guida in queste condizioni. Vero tallone da kill del vecchio Defender. Ma attenzione a non lasciarsi trarre in inganno troppo frettolosamente dalle apparenze, perché questo nuovo scheletro è comunque robustissimo e permette al Defender ancora oggi di fare cose semplicemente incredibili in fuoristrada. La trazione integrale del resto è permanente. Ci sono due differenziali bloccabili a controllo elettronico, centrale e posteriore, quello dietro è optional. Non mancano poi le ridotte. Il corpo vettura si può alzare di 14 centimetri, un'enormità, grazie alle molle ad aria. E le ruote hanno un'escursione pazzesca, fino a 50 centimetri. Insomma, volendo, in off-road con quest'auto si possono fare cose veramente assurde e anche estreme. Certo, è vero, è pur sempre diventato un SUV, tecnicamente, strutturalmente. Però è pur sempre unico, perché è il SUV più estremo che esista oggi per chi vuole fare davvero off-road. Del resto, nessuno dei suoi concorrenti può vantare un pedigree così raffinato per la guida lontano dall'asfalto. Qui siamo oltre i 5 metri di lunghezza, quindi i suoi rivali non possono che essere i SUV full size, direbbero gli americani. Quindi quelli con le tre file di sediglie e la configurazione anche a sette posti. In poche parole, quali sono i suoi competitor? BMW X7 e Mercedes-Benz GLS, che però non si sognano neanche lontanamente di poter fare in off-road un decimo di quello che sa fare il Defender. Nasce sulla piattaforma D7X, dove X sta per Extreme. Rispetto alla più semplice D7 del Range Rover Sport o del Discovery, è stata irrigidita e rinforzata, fino a risultare tre volte più rigida di una soluzione a telaio separato. E poi, una curiosità, è la regina del fuoristrada britannico, ma ora viene costruita lontano dalla UK, nello stabilimento di Nitra, in Slovacchia, dove si assembla anche il Discovery, lontano parente di questo Defender. La nostra vera prova parte, come sempre, dai consumi. Nel nostro ciclo di prova, in condizioni reali, il terribile cappio di Automoto.it, il piede fatato del nostro ingegnere è riuscito a strappare una media di poco superiore ai 10 km con un litro. Significa che per percorrere 100 km servono più di 13 euro. Giusto per darvi un termine di paragone, guardate i dati, come cambiano su una station, sicuramente più leggera e aerodinamica del Defender, ma ben più potente. In realtà, il valore di consumo di questa Land è un piccolo miracolo. Se consideriamo il peso, siamo oltre le 2,3 tonnellate, e l'aerodinamica. Il Defender è davvero imponente e ha una superficie frontale smisurata. In più, trazione integrale permanente e gomme M più S di serie non aiutano di certo. Merito del motore 2000 diesel 4 cilindri Ingenium Biturbo da 240 CV, che ha permesso comunque di limitare egregiamente il consumo di carburante anche su un bestione come questo. A parità di potenza un benzina avrebbe sicuramente fatto molto peggio e, per la cronaca, il nuovo Defender consuma meno del vecchio a parità di alimentazione. In ogni caso, chi non avesse problemi al distributore, può sempre optare per il 6 in linea a benzina con tecnologia Maid Hybrid da 400 CV. Ma tenete presente che il Maid a 48V è arrivato nel frattempo anche su un nuovo dieselone, sempre 6 cilindri in linea, che di CV ne ha anche 300. E che nel frattempo è arrivata pure una versione plug-in, ma solo con il 4 cilindri a benzina a passo lungo. Insomma, se volete motori particolari, il Defender ne ha uno per tutti i gusti. È vero, è pur sempre un fuoristrada, ma ora è anche un SUV, progettato per fare la differenza nella guida su asfalto, soprattutto rispetto alla vecchia generazione e in condizioni che poi saranno quelle in cui guideranno la stragrande maggioranza dei nuovi clienti Defender. Ecco perché la nostra prova strumentale si svolge prima di tutto su asfalto, l'ingegnere l'ha messo sotto torchio con i nostri strumenti e ne ha scoperte delle belle. Prima di tutto, il Defender accelera alla grande. Il risultato nello 0-100 è addirittura migliore del dichiarato e sono numeri comunque che fanno notizia in relazione alle dimensioni e al peso. Ma anche la frenata ci ha stupito. Manca ancora un po' per avvicinarsi alla soglia ideale dei 40 metri nel 100-0, però considerata la mole, la massa e soprattutto la presenza di gomme M più S di serie, pensate quindi per avventurarsi o comunque iniziare ad avventurarsi anche laddove l'asfalto finisce, beh, non è male questo risultato. Quello che conta di più in ogni caso è che è molto inferiore rispetto a quello che farebbero dei fuoristrada nudi e puri, quindi con telaio separato, alongheroni, che di solito vanno pericolosamente oltre 50 metri. Davvero positiva poi la ripresa, a tratti la definirei poderosa, soprattutto portando il selettore in S nella modalità di guida più sportiva che tira di più le marce. Insomma, il sistema di sovralimentazione e biturbo c'è e si sente. Cosa ci dicono questi numeri? Beh, che la scelta di abbandonare il telaio separato ha ripagato alla grande nella guida su strada. Il Defender accelera, frena e riprende meglio di qualsiasi altro fuoristrada con telaio alongheroni sulla piazza. La dinamica di guida del nuovo Defender è eccezionale se paragonata a quella del vecchio modello. Non dovete però immaginarvi il feeling di un SUV sportivo, perché comunque è vero, il Defender è diventato uno sport utility, ma comunque molto orientato alla guida in fuoristrada, quindi per esempio lo sterzo è leggero, molto demoltiplicato, come serve a un veicolo che deve affrontare spesso e volentieri il fuoristrada. E poi c'è lo schema sospensivo, ruote indipendenti con molle ad aria eccezionali dal punto di vista del comfort, ma che comunque restituiscono, vedete, un bel po' di rollio nelle curve affrontate ad alta velocità e anche un po' di beccheggio nelle frenate con grande mordente. Il cambio è il solito ZF a 8 marce, il miglior convertitore di coppia in circolazione che qui però è tarato in una maniera che predilige sempre dolcezza e morbidezza alla brutalità tipica delle applicazioni Alfa Romeo o BMW, giusto per fare due esempi. Ma siamo alla prova parcheggio, una vera impresa per un bestione di 5 metri. Dunque, intanto il diametro di sterzata non è di sicuro eccezionale e poi c'è il tema della visibilità. I montanti sono molto abbondanti, quelli anteriori perché fanno blocco con questi grandi specchi e anche dietro vedo davvero poco. Per fortuna ci sono telecamere a 360 gradi con una risoluzione eccezionale che mi aiutano tanto in manovra e poi una nota, attenzione alla ruota di scorta esterna, bellissima ma che crea un ingombro in più. I sensori ne tengono conto ma dalla retrocamera qui non la vediamo. Insomma, la classica vita della città non è proprio il suo pane. L'assorbimento delle sospensioni è davvero ottimo e ci mancherebbe altro, visto che abbiamo il top di gamma, favolose molle ad aria. L'insonorizzazione invece non raggiunge livelli di rilievo assoluto ma considerata la mole, la superficie frontale, l'abitacolo si può considerare comunque confortevole. Vi mostro i dati di un SUV a benzina molto buono dal punto di vista dell'insonorizzazione per darvi un termine di paragone. Quello che si percepisce di più è un po' di rumorosità proveniente dagli specchi che sono veramente ampi. Un tocca sana per sicurezza e visibilità ma è inevitabile che la loro presenza si ripercuota sul flusso aerodinamico. Sul Defender si sta seduti veramente in alto, più che su qualsiasi altro SUV in circolazione e questo vale già per l'assetto normale. Se poi la si alza per l'off-road, beh, allora sembra quasi di volare. Con questa Land Rover si domina letteralmente la strada mentre si guida, quindi se vi piace la sensazione, beh, questa è l'auto che fa per voi. Spazio, dimensioni extra large e forme squadrate sono la migliore formula per avere un abitacolo sconfinato. Proprio come questo che garantisce massimo agio a tutti i passeggeri, compreso il quinto. Un caso più unico che raro. E poi non si possono avere soltanto i due sedili aggiuntivi, un po' classici, nel baule, ma anche un terzo sedile ricavato tra i due anteriori, qui al centro, che è un tributo, diciamo, al Land Rover delle origini, ma che ricorda una soluzione di un'altra auto geniale a me molto cara, la Multipla. E il baule? Il nostro ingegnere ha misurato come sempre il volume litro per litro. E ha scoperto un vano veramente enorme, degno di un SUV di 5 metri. Certo, non siamo vicini ai valori fin troppo ottimistici dichiarati dalla casa, ma c'è comunque tantissimo spazio. Come testimonia la prova con le prodigiose valigie cinesi. Guardate quante siamo riusciti a caricarne. Il portellone è incernierato lateralmente come vuole la tradizione e questo è sicuramente un bene, così come il fatto di aver riproposto l'immancabile ruota di scorta posteriore. E ci mancherebbe. Attenzione però perché è un po' pesante da azionare e non è comodissimo, serve tanto spazio per poterlo aprire completamente. I sedili si possono abbattere con il classico frazionamento. Il piano di carico è piatto e robusto. Ci sono ganci a volontà e addirittura una presa di corrente alternata col 220 e ci mancherebbe, visto che siamo su un'auto pronta a tutto. Ma attenzione alla soglia, è veramente altissima. Per fortuna si può abbassare un po' agendo sugli appositi tasti che regolano le molle ad aria e di conseguenza l'altezza del mezzo. E la qualità? Le minuziose indagini del nostro ingegnere hanno rilevato un livello complessivo molto buono, lontano anni luce dalla semplicità spartana del Defender. Originale. Mi piace il fatto che siano riusciti a fondere in un unico ambiente, raffinatezza, praticità, ma comunque evocando con forza il mondo dell'avventura. Gli assemblaggi interni sono rigorosi e i materiali, nonostante siano per lo più plastici, sono di ottima qualità. Bellissime le porzioni di carrozzeria vista con VT Torx, così come la traversa di magnesio presso Fusa, che offre un appiglio fondamentale in off-road. Attenzione solo agli accoppiamenti di carrozzeria esterni che, soprattutto nella zona del portellone, non sempre sono impeccabili. E poi una caduta di stile. Il mandorlato sul cofano ci voleva, ma non di plastica. Che lei sia un'auto di sostanza lo capiamo anche dai dettagli. Prese d'aria e griglie qui sono vere, non finte, anche perché qui volendo ci si può attaccare un vero snorkel. Ma attenzione perché siamo alla prova portiera, quindi orecchie dritte. Ok, non sarà il suono più felpato che abbiate mai sentito, ma chiunque abbia mai chiuso lo sportello di un vecchio Defender sa bene che non c'è paragone. Nonostante le guarnizioni, come vedete, siano abbondanti e di buona, ottima fattura, durante la marcia abbiamo avvertito qualche scricchiolio di troppo proveniente dalle portiere e anche dal parabrezza. Ok che siamo su una macchina pensata anche per l'offroad nudo e crudo, però considerato il costo forse si poteva curare un po' di più questo aspetto. In compenso i sedili sono davvero ben fatti e sono pure comodi e le tasche sono tutte rivestite in gomma. Dietro ci sono bocchette di ventilazioni dedicate e in tutto l'abitacolo sono sparse una miriade di prese di ogni forma e tipo. Non ho apprezzato i tasti al volante che sono realizzati attraverso un unico pezzo, il materiale plastico, e non trasmettono una bellissima idea di solidità. Quando vengono azionati poi la ghiera qui del volume non è retroilluminata di notte e poi il bracciolo centrale quando ci si appoggia produce qualche scricchiolio di troppo. Capitolo tecnologia. Adoro il fatto che siano rimasti al loro posto tanti bei tasti, anche belli grandi. Aumentano la sicurezza e sanno proprio di defender. In ogni caso poi ci sono tutti i display che volete. Quello della strumentazione ha una bellissima risoluzione, è molto ricco di informazioni, soltanto qualche animazione va un po' a scatti, secondo me, e poi bisogna imparare a orientarsi nei menu che sono sempre molto contorti. All'inizio perlomeno si fa un po' di fatica a trovare la quadra. Bello anche il display centrale da 10 pollici, moderno, connesso, bello rapido al tocco. Nonostante sia migliorato notevolmente rispetto all'ultimo sistema multimediale del gruppo Jaguar Land Rover, io ho comunque preferito utilizzare quasi sempre Apple CarPlay o Android Auto, che per fortuna ci sono e sono ben implementati, anche se vi a cavo. Davvero bello e utile poi lo specchietto, l'abbiamo già visto su altre Land Rover recenti come la nuova Evoque. Si può avere quello classico, elettrochromico, per non farsi abbagliare, ma anche interamente digitale, con le immagini trasmesse da un'apposita telecamera. Pazzesco poi il clima trizona, optional da quasi 1500€, che offre anche lo ionizzatore. Diverso invece il discorso per i sistemi di assistenza alla guida. Sì, perché il cruise control adattivo non è di serie, si può avere ma soltanto a pagamento. Io per esempio sul mio Zempare non l'ho trovato e mi sono un po' stupito, ho considerato il prezzo e il valore di questo nuovo Defender. E poi il mantenitore attivo di traiettoria non è disponibile, neanche a pagamento, quindi non si può avere una guida assistita piena di livello 2. Anche questo un po' mi ha sorpreso. In compenso, gli altri sistemi di assistenza alla guida che ci sono, come frenato, automatica di emergenza e monitoraggio degli angoli ciechi, funzionano bene e non sono mai invasivi. Ditemi la verità, anche voi vi state innamorando del nuovo Defender, ma non sapete come fare a comprarlo e a mettervelo in garage. Beh, allora cerchiamo di andare al di là dei soliti sterili, gelidi e inutili prezzi di listino. Il prezzo ufficiale di questa versione parte da 77.000 euro, a cui bisogna aggiungere 2.300 euro di optional presenti sul nostro esemplare. Online non si trovano grandi sconti rispetto al listino, ma se si è disposti a rinunciare alla nostra First Edition, il Defender lo si può portare a casa con 60.000 euro. Un bel po' meno quindi per un allestimento S che è quello che consigliamo. Ha comunque tutto ciò che serve, soprattutto se consideriamo che quest'auto, almeno nella filosofia, dovrebbe essere spartana. Si può anche avere con una rata che parte intorno ai 450 euro mensili, con un anticipo di circa 20.000 euro. Il costo di mantenimento ovviamente non è dei più vantaggiosi, come accade per tutti i SUV di questa taglia e fascia di prezzo. E a voi ha convinto il nuovo Land Rover Defender con scocca autoportante, non più telaio a longheroni e soprattutto vi è piaciuta questa nuova prova strumentale di Automoto.it? Raccontatemi tutto se lo volete nei commenti qui sotto. Ciao da Matteo Valenti e alla prossima prova strumentale. Ciao da Matteo Valenti e alla prossima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.